No vabbè, ma davvero questo posto si chiama merda Ma davvero la parte di una macchina Ma davvero la cosa è che, ma davvero la cosa è che... Ma davvero la cosa è che... No, dammi lui, ma davvero la cosa è che... tu madre fa le pompeiii grido di battaglia ma ti posso chiedere che cazzo è successo la tua webcam ops ci ho messo la carta da pizza allora volevamo una capricciosa la cacca scusa volevamo una capricciosa una pizza con scusa con doppia mozzarella e fiori di zucca doppia mozzarella e fiori di zucca no senza alici così mi giro così apro la mappa così faccio sfra 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 mia zia era entrata in ospedale appena tre giorni prima jessica e lisa avevano deciso di andare a trovarla sopra meglio di che c'è la lascia oh no i topi guardalo come rumina che bello ti è partito non perché non ti è partito il suono ah perché avevi fatto la cacca prima vabbè dobbiamo rigettare il male salvare il mondo alzare il volume ah attenzione la posa signori porca puttana porca puttana porca puttana Grazie a tutti.